Buongiorno, questo mattino mi trovo presso la scuola media Luigi Russo da breve ristrutturata per farvi vedere qualcosa di ciò che abbiamo realizzato. Molti genitori me l'hanno chiesto perché i bambini sono ritornati a casa entusiasti e quindi ci sintaco, ma facci vedere quello che è stato fatto all'interno della scuola. Come vedete, guardate, tutto il solaio tutto fatto nuovo, con illuminazione a led, di sistema di aria centralizzata Daikin, guardate, guardate, tutta illuminazione a led, vi farò vedere tutti i bagni, guardate, guardate, tutti i bagni nuovi, tutti i vissi a taglio termico, triplo vetrocamera, faccio vedere qualche stanza, guardate le stanze, guardate gli invissi a norma, guardate, guardate, si sta benissimo, guardate, ogni stanza con i termostati automatizzati, quindi ogni stanza può avere la propria temperatura caldo-freddo, anche ho voluto che ci fosse il sistema di erogazione dell'acqua per i bambini, per i ragazzi, e ogni piano c'è un distributore dell'acqua gratuito dove i bambini a breve saranno attivati potranno appunto prelevare l'acqua, monitor, poi c'è l'illuminazione d'energenza, pannelli fotovoltaici 40 kilowatt integrati, guardate le vetrate, guardate le vetrate, tutto il cappotto termico a norma e 15 centimetri con l'ala di roccia, praticamente qui siamo in inverno ma si sta benissimo, un immobile di classe energetica A+, e praticamente abbiamo reso veramente decoroso un immobile che era ormai obsoleto sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista energetico, quindi vi ho fatto vedere solo alcune delle cose, però anche perché in questo momento le classi che lavorano quindi devo anche io parlare il minimo possibile, quindi buona giornata a tutti e a presto!